E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto, io sono Emiliano e anche questa sera andiamo insieme a fare il nostro update di analisi tecnica legata ai mercati finanziari, in particolar modo ai mercati delle criptovalute e andremo a capire quello che sta accadendo al prezzo di bitcoin perché la move di oggi è molto importante, non è da sottovalutare perché potremmo aver confermato un low, ma ne approfittiamo e ne approfondiamo tutto tra pochissimo come sempre prima di partire. Io mi invito a uno, quello di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale con il click sulla campanellina quando foste nuovi perché faccio un sacco di contenuti, sono tanto time sensitive, ciò significa che vederli subito è meglio che vederli già dopo qualche ora. Detto questo ragazzi vi invito anche ad andare un'occhiata ai link che trovate in questa descrizione e partiamo. Partiamo da un bitcoin che è molto molto carico secondo me, allora non fraintendetemi, non fraintendetemi, però quello che voglio arrivare a dirvi subito, subito, come piace a me è che questa cosa qua potrebbe essere il low della move che stavamo cercando. Quindi cosa è successo? Ricapitoliamo un attimino perché serve fare secondo me chiarezza quando si affronta un mercato di questo tipo. Abbiamo avuto una salita, abbiamo avuto un low confermato appunto qui e abbiamo avuto un high ride, quindi un massimo più alto del massimo precedente. A questo punto noi abbiamo detto su questa salita dobbiamo trovare un top, un top temporaneo. E dove l'abbiamo pescato? Abbiamo pescato in realtà molto alto perché l'abbiamo pescato in zona 46 mila dollari e da qua abbiamo detto dobbiamo cercare di trovare un low più alto del precedente. Più saliamo, abbiamo detto, più spazio abbiamo per trovarlo. A questo punto abbiamo ritracciato, abbiamo provato da 50, non ha tenuto, abbiamo provato da 12 e in questa fase di mercato a 12 sta tenendo molto bene perché ci ha tenuto a galla 1, 2, 3 giorni. Anche se consideriamo comunque il weekend che non è che siano volumi importanti, abbiamo già discusso che potenzialmente poteva essere un weekend anche di attesa e così è stato. Oggi siamo andati a pescare liquidità sulla 26 e abbiamo subito recuperato la 12 e stiamo riaffrontando la 50 che ora va a fare da resistenza. Quindi se dovessimo riuscire a bucare da 50 e se dovessimo avere la forza di arrivare almeno sui 44 potrebbe crearsi un ottimo engulfing bullish che andrebbe a rimangiarsi queste tre candele e quindi ci metterebbe nell'ottica di poter ritestare questo top qua ed eventualmente fare un high superiore al precedente. Quindi confermare soprattutto questo come il low dell'action che sarebbe top. Perché? Perché ci creerebbe una struttura innanzitutto sostenibile, andremo a confermare il cambio trend che stiamo cercando sul daily in maniera importante o meglio l'abbiamo già avuto tendenzialmente ma vorrei vedere una conferma di questo cambio trend e quindi questo è l'environment, ok? È l'ambiente che ci stiamo creando su bitcoin. E se andiamo un po' nel dettaglio a capire un pochino meglio che cosa è successo nella giornata di oggi volevo segnalarvi dei volumi anche abbastanza importanti che si sono avvenuti su una candela poco rilevante ma comunque è stata una giornata tendenzialmente con volumi bullish, ok? Tutti i volumi bearish che abbiamo avuto sono stati comprati bearish comprato, bearish comprato, bearish comprato vedete che c'è un uptrend da un punto di vista orario abbastanza pronunciato nell'ottica di questa giornata quello che ci tengo sempre a sottolineare è che il mio canale non ha l'obiettivo di darvi consigli di investimento ma cerca di farvi ragionare su quella che è l'action perché molto spesso si dice follow the money, ok? Quindi il sentiment va seguito, il trend va seguito ma molto spesso ragazzi quando si è convinti che bisogna scendere ne ho sentite di tutte di più sia su twitter che sui gruppi telegram che ci sta perché è un'occasione di confronto io non ho la sfera di cristallo, non ce l'ha nessuno però vi dico state attenti perché il mercato vi mangia, ok? vi mangia proprio per colazione, per cena se non state attenti e se fate scelte troppo di gregge, passatemi così il termine quindi vi invito sempre a ragionare ad avere una vostra strategia che non vuol dire che voi avete ragione per forza e che gli altri devono avere torto ma significa avere una propria strategia basata sul proprio portafoglio, sulle proprie scelte, sui propri orizzonti temporali e su questo io punto sempre perché credo che possa essere quello che vi fa fare il salto, ok? di qualità, ok? quindi dobbiamo cercare all'interno di queste chart dei segnali, dei sintomi e un segnale importante è questo qui anche sull'orario si vede molto bene come questa zona sia una zona comprata in maniera molto aggressiva perché ogni volta che abbiamo pescato qui guardate sempre shadow importanti anche questa candela qua del 12 febbraio alle 22 subito ricomprata quella di oggi alle 2 del mattino subito ricomprata ci siamo riprovato, comprati di nuovo e non ci siamo più avvicinati quindi dobbiamo ragionare in tal senso a livello di total market cap rimaniamo la vediamo a livello daily che è più interessante non settimanale ma one day perfetto abbiamo anche qua un bounce che dovremmo eventualmente andare a considerare come un low lo scopriremo tra poco e a livello di dominance siamo molto forti in realtà anche se nella giornata di oggi siamo flat vedete come l'avevamo già discusso ragazzi queste cose quindi io spero sempre che voi siate sul pezzo e seguiate tutti i video possibilmente poi so che magari avete anche altro da fare però cercate sempre di recuperarli perché è una storia che continua e quindi vedete che poi le cose tornano guardate la 200 come è molto polare ci ha tirato lì e ci sta tenendo lì quindi ci abbiamo provato 1, 2, 3, 4 giorni con oggi a superarla e diventa complicato qualora la dovessimo superare con convinzione mi aspetto un'accelerazione in queste zone qua dei 44 e poi da ragionare se sul ritracciamento la 200 può fare questa cosa qua e fare da supporto per continuare se continua ragazzi a dominance a salire il play migliore è bitcoin questo è chiaro perché vuol dire che bitcoin si mangia la cap se in più abbiamo un mercato che non dovesse confermare il low che abbiamo discusso qua non dovessimo confermarlo ma dovessimo continuare con un action di questo tipo qui fare un lower high e continuare a ribasso beh con una dominance che sale ragazzi dall'alcoin c'è da scappare in quell'ottica di più che da scappare c'è da proteggersi in maniera forte con degli edge importanti con un bilanciamento importante quindi questo serve un pochino come focus sulla dominance per il momento rimane forte ma per me se, adesso vi dico come la penso per tutti gli effetti ma in pochissime parole se dovessimo continuare a rialzo sulla dominance ma bitcoin dovesse continuare a rialzo va bene ok magari l'alcoin non le vedreste scoppiare ma potrebbe essere importante caricare eventualmente l'alcoin su una dominance che sale ma con un bitcoin che sale perché poi la correzione che potremmo avere su bitcoin o meglio la lateralizzazione molto spesso che abbiamo su bitcoin porta una dominance che cala e a quel punto capitali che confluiscono sull'alcoin e a quel punto vedere l'alcoin volare ok ma solo se la bitcoin dominance sale a fronte di un bitcoin che sale ok su un bitcoin scarico un bitcoin debole con una dominance che sale l'alcoin sono da evitare ok questa è una regola aurea che io ho e che cerco sempre di sfruttare e spero fatemi sapere anche voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate se pensate che possa essere utile anche per voi perché può essere molto interessante nomi che stanno facendo bene oggi volevo osservare con voi luna anche se luna comunque viene su una sorta di di pattern chiaramente di low anche qua luna deve cercare di superare i 60 dollari con convinzione per andare a fare l'inversione e poter proseguire a rialzo fino ad allora non sta andando granché stiamo andando in lateralizzazione si stiamo volendo anche stringendo però non voglio approfondire troppo alcoin ma non tanto per l'alcoin in sé ma perché capite che in un mercato come questo che è molto polarizzato da bitcoin e con una dominance di questo tipo qua ha poco senso volevo solo farvi vedere anche che mi ero segnato ethereum perché ethereum ha fatto una move molto simile a bitcoin pump molto forte scarico oggi prima giornata verde vedremo se avremo la forza di ritestare la 200 per ethereum prima abbiamo i 3000 dollari però potrebbe essere un segnale anche perché ethereum btc che è il nostro un po' benchmark di mercato dimostra comunque ancora debolezza ma questo non lo scopriamo da questa metrica lo scopriamo tendenzialmente da quella che è la dominance di mercato detto questo ragazzi io mi fermo domani un sacco di appuntamenti perché a parte il morning with crypto che vi aspetto domani mattina arriva anche la live del cartello crypto con luca di crypto gateway mind the chart hard rock crypto crypto ita il marchese mauro caimi abbiamo tutti ok quindi vi aspetto sul canale per la live alle 9 e invece per quanto riguarda basta poi mercoledì abbiamo il grande annuncio di afterside che vi aspetto appunto in premiere detto questo ragazzi vi saluto e vi auguro una buona giornata a tutti ciao buona serata a tutti